Una partita combattuta, un punticino portato a casa, buona prestazione per i suoi ragazzi, cosa ne pensa? Allora, siamo partiti bene, i primi dieci minuti potevamo andare in vantaggio, abbiamo sbagliato un paio di gol, poi ci siamo lasciati prendere un attimo dall'ansia lì in difesa, abbiamo subito due gol loro, nello spogliatoio, nell'intervallo, ho detto ai ragazzi che dovevamo crederci che la possibilità di portarla a casa l'avevamo e sono contento perché quelli che sono rientrati dalla panchina hanno fatto il loro dovere e ci hanno raddrizzato la partita sul 2-2.